Un concerto della Banda della Dolorata ieri pomeriggio dinanzi alla chiesetta di San Liberale in quello che è sempre stato il luogo di culto dei pescatori di corallo ha aperto i festeggiamenti per il santo al quale gli stessi pescatori e gli artigiani che lavoravano nel corallo nel 1600 vollero erigere un luogo di culto. Era un po' la Pasquetta di una volta. La Pasquetta non c'era, io nel 1953 andando a Roma a studiare ho conosciuto la Pasquetta e a Trapani ancora non c'era, poi dopo è venuta la Pasquetta. Questo rappresentava la gita fuori porta per tutti. Io da piccino ci venivo qua con mia nonna, mangiamo callo aperto, c'era la missa. Insomma era fuori porta, non c'era altra festa, fuori della città non c'era la festa, era questa la nostra Pasquetta. Poi era Pasquaciuri, Pasqua dei fiori, che significa l'annunzio della Pentecoste che veniva data a Roma nel Panteon attraverso una pioggia di rose e da allora si chiama Pasquaciuri e c'è il proverbio giapponese che dice A Pasquaciuri si vestono i signori, a Pasqua dei cassati si vestono i cacati, le donne di basso rango. Alle 19 fra Vincenzo nella chiesa di San Francesco a cui è affidata la chiesetta ha celebrato una messa al termine della quale è intervenuto per un saluto il Vescovo Monsignor Fragnelli. È un momento di gioia per tutta la comunità, abbiamo ripristinato questa festa che forse era andata un pochino così. È due anni che sono qui a Trapani come parroco della parrocchia di San Francesco e questa porzione di chiesa appartiene appunto alla nostra parrocchia di San Francesco d'Assise. Ed è molto bello perché riprende una tradizione molto ma molto antica qui a Trapani. Poi i Trapanesi e i Trapanesi la conoscono molto meglio di me. Ed è bello insomma, ci sono le persone che ci collaborano in tutto questo. E poi il clou, il fondamento di tutto è la Santa Messa che adesso andremo a celebrare dove ricorderemo tutti i nostri cari defunti. E comunque la festa continua perché dopo la Santa Messa c'è un agape fraterno, un modo di intrattenersi, questa porzione di comunità e fare fratellanza, fare amicizia, stare insieme. Grazie. 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 Grazie.